Un quarto d'ora abbondante Un quarto d'ora abbondante Grazie, diciamo, sia la verità. Passano per il primo giro. Io ne approfitto per ringraziare la Cosa Santana, la Mezzuno, i prodotti sportivi, la Nova Cop. Sto preparando le premiazioni per le categorie giovanili, quindi invito i giovani corridori che hanno partecipato questa mattina alle gare a venire qui davanti al palco. E anche se non l'avete sentito, io ve lo ridico. Qui davanti al palco i giovani, dagli esordienti, ai cadetti, ai ragazzi, agli allievi che hanno partecipato questa mattina e siete qui. Eh, la vecchiaia. Bravo, Nasine, bravo. I corridori che passano il primo giro qui davanti al nostro palco. La convivenza multientica è il tema di quest'anno. Hanno aderito e partecipato fortissime associazioni che lavorano sul territorio nell'ambito dell'integrazione multietnica. Bravo Alessandro, bravo. Fatemi sentire un po' di incitamento del pubblico al primo giro. importante, già solo partecipare. E qui c'è Arese. Bravo Arese, bravo. Io voglio ricordare alcune delle associazioni che hanno partecipato in Italia, l'associazione Frattia, l'Italo-Rumena, l'Unità Filippina, l'associazione africana in Piemonte, l'associazione e gruppi che hanno collaborato. e tutti i ragazzi. Dai, Jacopo, dai. E eccomi qui che passati. Diventiamo. Ma quanti siamo? Vai! Vai, vai! Dai, Magari. Forza, siamo tutti con voi. E intanto ci siamo... ...esordienti femminili che se vengono qui vicino al palco prenderanno la premiazione più facile. Non mi sembra un esordiente maschile. Allora, prepariamoci qua sotto perché sono per iniziare le premiazioni. Vito... 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 Da un'altra parte della gara purtroppo... Devi aspettare che passi...